No, non vorrei che davvero ci convincessimo che ci sono alcune regioni che stanno andando bene. Persino quelle che vanno meglio, non bene, non hanno neanche raggiunto l'ottanta per cento delle poche dosi disponibili. Vuol dire che abbiamo detto che le dosi sono pochissime, nessuno ha raggiunto l'ottanta. In Lazio non mi pare che ci sia da fare i salti di gioia, perché fin quando abbiamo poche dosi e non le abbiamo utilizzate tutte, solo l'ottanta per cento. Ma non faccia sempre politica, proprio sempre. Ma sempre politica, ma siete avanti nei sondaggi, per una volta riconosca se c'è una stessa... Ma perché mi interrompe e non mi fa dire la verità? Ma perché deve dire lei la verità e non la posso dire io? Ma perché la può dire lei la verità e non la posso dire io? Lei ha fatto politica più di me, lei ha fatto politica più di me dicendo che bisogna copiare il Lazio. L'unico che ha fatto politica è lei, l'unico. Ma perché? Allora mi lasci dire, mi lasci dire, poi dopo l'interroga, i vaccinati... Rilevo che nel Lazio le cose funzionano, non faccio politica, faccio il cronista, ma faccia lei politica, ci dica come bisogna fare. Ma mi faccia dire, ma guarda un po'... Sì, esatto, glielo dico subito. Allora, io intanto guardo la verità dei fatti. Abbiamo fatto due dosi a 1.600.000 persone, che rispetto ai 50 milioni di italiani faccia lei qual è la percentuale. In questo 1.600.000 c'è chi ha fatto qualcosa di meglio, lei dice Lazio, ci credo. C'è chi ha fatto qualcosa di meno, altre regioni non so quali. Il dato però non è, e questo volevo dirle, non so perché lei si è arrabbiato, quello che volevo dire è che anche chi fa meglio sta facendo qualcosa che non è sufficiente. Non fa abbastanza, dice la Russa. Per nulla sufficiente. No, non è che non fa abbastanza, fa molto poco. Ma c'è un problema anche di circolare ministeriale sulle seconde dosi, che non è chiara. Ci sono mille storture. Allora, Ilaria, devi rimanere con me perché... E allora perché dice che faccio politica? Dobbiamo fare il nostro annuncio su Oxfam. Quindi rimani con me, vado in pubblicità e torno subito.